Cane Yosha, dobbiamo andare dal dottore dermatologo per far vedere il mio problema di pelle Certamente, perché sto male, a grattarmi, tutto il giorno mi fa male Non ci riesco a dormire E' impossibile, andiamo a prendere la macchina Ok, sbrigati cane Mi escono delle placche bianche Che scendono dalla testa Buon poveriggio cane dottore Buon poveriggio anche voi cani Perché sta male il cane Perché ha problemi di truito Mi ha grattato quella Mi ha grattato in questo modo Mi ha grattato in questa pulce Accidentaccio Bisogna sistemare la mia pelle e i capelli Già Devo prima guardare e quindi devi spogliarti Cane Yosha Ok, spoglierò Ok Cane babbone Ti fa male il go- ti fa male il gomito? Certamente Perché dovete comprare una crema da mettere su questa dermatita allergica Va bene Adesso metterò tutte le pomate che mi ha prescritto il dottore Va bene Facevo quella Cane babbone Cane babbone Devi tenere il tuo corpo pulito così non vengono infezioni e devi stare attenta dei germi Ok? Sì Seguirò tutti i tuoi consigli dottore Sicuramente guarirò e starò attento dello sbocco Bravo cane babbone Continua così Grazie gentiluomo dottore E come sono guarito Ah l'hai visto cane dottore perché hai guarito i capelli perché hai fatto il corpo Dermatologo Sì L'ho visto Eccezionale Wow Ho guarito bene Sì buona serata cane babbone Cane Yosha Ok Andro Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti